salve a tutto il pubblico youtube benvenuti in questo nuovo video ma soprattutto benvenuti nel mio canale per primi benvenuti in questo nuovo video un semplicissimo video per augurarvi un buon inizio e continuazione di settimana e buon inizio e continuazione del 2021 grazie per essere passati ho pensato di fare un piccolo video così augurale diciamo adesso vedremo di organizzarmi per fare qualche live libera come sapete le dirette a tema sull'argomento medicina generale sono sospese a causa di questo casino che c'è in piedi non voglio assillarvi con altre problematiche di tipo medico infermieristico quindi sono sospese adesso vedrò di organizzarmi per qualche live libera ma come sapete le live libere sono di sabato sera mi piace il gioco luci dietro chiaroscuro bene e poi niente vabbè poi se milly vuole fare anche lei qualche video non lo so adesso vedremo perché ultimamente è poco giocosa non so come mai ad ogni modo niente io vi ringrazio per essere passati un forte abbraccio a tutti e alla prossima mi raccomando sempre in gamba ottimisti e a presto ciao grazie per essere passati un abbraccio ciao 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 ciao